Ah! 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 Perché ci hai messo tanto? Mentre rincorrevi delle ombre io stavo... No! Tu hai dato rifugio a un traditore! Kestis! Aprite il fuoco! Spagliatevi! Al riparo! Tank Farrick, un inquisitore! Ah! Attento! Attento! Grazie! Carl, dobbiamo andare! Carl! Vieni qui! Carl, dove vai? Torna indietro, Carl! E' uno scherzo? Ah! E' uno scherzo? Gabs! I gemelli! Piangeremo dopo! Ora muoviamoci! Ci danno la caccia, amico! Ce li scrolleremo di dosso! Devo concentrarmi! Devo concentrarmi! Super. Buonanone. Original. Ceke. Bravo! Turo. Accesso non autorizzato. Attivazione protocolli di sicurezza. Trauma in piedi. Insufficienza di levatori. Lancia! Un contenitore di Steam tornerà utile. Inporta! 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 Da lì non si passa. Forza, torneremo più tardi. Porterò la tua testa alla donna. Prima adesso passa! Dovrai trovare più duramente. Non oggi. Dovrai trovare più duramente. Dovrai trovare più duramente. Dovrai trovare più duramente. No. 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 Possiamo andare amico Possiamo andare amico Grazie a tutti. E' me che vogliono. Eccomi qua. Sono vivi. Cal! Finalmente. Sembra un passaggio? Ho parlato troppo presto. Io penso all'inquisitore. Voi copritemi. D'accordo. Dobbiamo toglierla di mezzo. D'accordo. 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 L'accio! I formenti! Un nuovo giocattolo! È doppi colorato! Tutto qui! La tua debolezza mi deprime! Sei lento! È finita! Masana! Eri un cavaliere Jedi, prima di tradire il nostro ordine. Il tuo nome era... Masana Thain. Sarò io a liberarti. Sì. Sto bene. Sì. 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 Lancia qua! Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Booth, bravo. Siete lì? Torniamo alla Mantis. Se gli altri ce l'hanno fatta, li troveremo all'Hangal. Altrimenti... Fuoco! Prova a osservare questo! Come on! C'è qualcuno lì? In missione! Attacco il nemico! Attacco il nemico! Stai soltanto a zappare? Oh, non pensare di fuggire! Fammi vedere un po' di sangue! Siamo lontani dalla fine! Dammi una mano, BD! Sì! 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 Oh! Sì! 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 figlio di un Gandarch. Sei ferito. Me la caverò. Che fine ha fatto l'inquisitore? Morta. Ma Gaps e i gemelli, io dovevo... Conoscevano i possibili rischi. Saliamo e trasmettiamo le informazioni a Saul Guerrero. Così onoriamo i caduti. Hai ragione. Sì. B.D., chiama le navi. Diamine. Non è l'accoglienza che mi aspettavo. Bravo. Sei in posizione? Affermativo. Bene. Io attiro il fuoco. Colpisci quando sono distratti. È ora di vendicarsi. Ci si vede, Rottamatore. Vado in posizione. Ti copro io. Forza. Andiamo, B.D. Forza. Intrusori. Comincia. Abbia la guardia. Non riuscire a vivo. Non sono una minaccia. Orviatolo. Continuate a puntare. Per fortuna abbiamo bravo. Beccato! Rottuncio. Via libera. Ecco Langan. Speriamo che la Mantis sia ancora intera. Basta! Bisogna fermarlo! Nemico sotto di noi! Sperti la mia vista! Non lo sbaglierò! Niente reutillazione! Adormi, Sam! Sperti! 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 Z-95. Bene. Quello è tutto tuo, Bud. Prevedevo un'uscita rocambolesca. Allora ci vediamo lassù. Pronto? Oh, niente male come primo appuntamento, ma non sono stato pagato. Un localizzatore. L'altro ce l'ha sulla Mantis. Quando è tutto tranquillo, vieni a cercarmi. Salderemo. Sì, mi fido di te. Hai visto i dati. C'è ancora molto da fare. Non è andata male, eh, BD? Bud. Che la forza sia con te. Sai combattere, Cal. Vediamo se sai pilotare. Come andiamo, BD? Ah. In ogni caso, dovrà aspettare finché non saremo al sicuro. Niente traffico. Il portale deve essere in manutenzione. In superficie, vai alla velocità della luce. Dobbiamo rischiare. Ci siamo trattenuti fin troppo. Ne abbiamo compagnia. Al mio segnale frena. E siamo dietro. Ricevuto, bravo. Ottimo lavoro, gente. Spero fosse l'ultimo. Non amo i lunghi addi. Ecco gli altri. Mi separo. Ne attiro un po'. Grazie, BD. Buona fortuna. Anche a te. Alla prossima. Non li cemino! Resisti! Bella mossa. L'ho imparata da te. Ecco l'uscita. Ci siamo quasi. Altri in arrivo dalla superficie. In dietro di noi. Siamo in trappola. Abbiamo incassato qualche colpo. Puoi avviare una diagnostica mentre trasmetto i dati? Fatto. Spero siano informazioni utili. Ce l'abbiamo fatta. Ehi, BD. Ehi, state girando un olofilm. Fammi fare bella figura, ok? Hai preso il mio lato migliore. Giù le zampe dal mio tavolo, ragazzo. Beh, è come speravamo. Questo libro è una copia dall'archivio Jedi. Fantastico, Sir. Peccato non aver impedito all'impero di prendersi il resto. Pazienza. La guerra sarà ancora lunga. E non basteremo noi. La galassia è grande, droide. E io ne ho vista solo una piccola parte. Ma un giorno... Ritornerò su Datomir. E racconterò alle mie sorelle assopite ciò che ho imparato. Tu non sei invitato. Sai, non mi capita spesso di riesumare una vecchia ricetta di famiglia. Beh, che ne pensi? Merrin! È buono. Ci vorrebbe un po' di sale. Troppo sale fa male alla salute. È una bontà, Gris. Pagerei dei crediti per questo. Ah, sì? Ehi, non sarò certo io a servire la Tical. Ehi, anche voi sentite odore di bruciato? Oh! Oh! Il giroscopio è in avaria. Quello ci serve. Qualche porto vicino che non riscuoterebbe la nostra taglia? Ah, certo. Cerca il sistema di Como. Allora è lei che ti sei stabilito. Nel bel mezzo del nulla. Perfetto per far perdere le tracce. Se qualcuno sa come riparare la Mantis, quello è Grisdrydus. Pensi che ce la faremo? Dovremmo mettere a posto prima di andare da Grisdrydus. Sai come la pensa sul disordine. Riportiamo questa cosa al banco da lavoro. Diamo una sistemata all'equipaggiamento. Montiamo questo? Nel gossip. Ok, di Sidepro. L'inifiato. L'inifiato. Niente male. Questo è pronto all'uso. Così dovrebbe andare. Così dovrebbe andare. Sei pronto, BD. Ci siamo quasi. Andiamo in cabina. Non le usavo dai tempi del cantiere su Bracca. Un regalo di Prauf. Questa piuma di uccello Shio dovrebbe portare fortuna. Continuo a chiedermi se ho fatto la scelta giusta. Fin qui tutto bene. Quello cos'è? Atterriamo. I sistemi sono in avaria. Rilevi niente. Riavvia i motori su Blucher. Fai così a metodi. Non raggiungeremo mai l'arga. Dobbiamo atterrare. Reggi, BD. È proprio andata. Non riusciremo a volare di nuovo senza riparazioni. Bene. Noi siamo qui. Questo deve essere l'avamposto. Finalmente vedremo la taverna di Grise. Ok. Andiamo. Andiamo. C'è molta strada da fare. Ah, che pace. A Bravo sarebbe piaciuto. Andiamo. C'è molta strada da fare. Bene. Quindi Grise è dall'altra parte di tutto questo? Mi fai dare un'occhiata da vicino? È davvero un bestione. Abbiamo la nostra meta. Raggiungiamola. No. 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 No, ma. No. No… No. Oh no. No. Oh no. 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 L'ultima Lucreulc che ho visto era su Bracca Tanto tempo fa Trauf, chissà cosa diresti adesso Avanti, la Mantis non si riparerà da sola Spero solo che Gris abbia i pezzi che ci servono Fermati, aspetta, fermati Arrugginito, come tutto il resto qui in giro Alla prossima Questo cancello non sembra funzionare Alla prossima Androidi da battaglia Alla prossima Bella scoperta, BD Ci sono superstiti? No, nessuno Capito? Siamo sicuri che la nave verrà liberata Ma sicurati che non ce ne siamo Guarda cosa abbiamo trovato Sì, per i predoni del caos Non è divertente Non è divertente Ho fatto la mia parte Ti ho preso Dovrai fare molto di meglio Respinto Non sono come i separatisti che ricordo io Predoni del caos In che guaio si è accacciato Gris Ora guardo Oh 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 Guarda quel coso Gris si è trovato un gran bel posticino Che bel panorama Dimenticavo quanto parlano Perfetto ci farà guadagnare tempo Eccolo là Fuoco Altro giorno, altro droide schiacciato Fuoco 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 Attacco inadeguato Ormai è chiaro che questi droidi hanno nuovi padroni Affondiamo Muoviamoci È pieno di catrame? Fa' attenzione Ho capito Quelle esplodono Buono a sapersi Fuoco 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 Non mi piace per niente. Nave bloccata, eh? Mi capisco. Ci piacerebbe aiutare. Non mi piace per niente. 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 Ah, quei predoni non sono altro che assassini. Grazie a tutti.